Musica E ci siamo un po' emozionati un po' di più Questa è stata una serata veramente importante Come ho detto anche durante il concerto Certe luci non bisogna spegnere Assolutamente bisogna tenerle sempre accese Perché c'è bisogno da parte nostra Da parte di chi si impegna ogni giorno Addirittura con la ricerca e con tutto Di impegnarsi sempre di più per riuscire a sconfiggere questo male Mi disse portami domani il cuore di tua madre per i miei cani Lui dalla madre andò e l'uscisi Dal petto il cuore le strappò E dal suo amore ritornò E' stato bello insomma condividere il palco Con Piero Marras, Armelio e Briganti Giannas è stata una cosa bellissima Il motivo per cui noi siamo qua alla fine Era condividere questo palco Per una causa importante Appunto non spegnete le luci E' lo slogan E niente Speriamo di farle tante altre Speriamo che sia la prima di tante ecco Non la posso rifare la gag L'ho già fatta prima Anche un po' per me Grazie Siamo qui per questo evento benefico Questa organizzazione ci ha venuto qui a Cabras Abbiamo accettato un gran piacere Abbiamo visto un'organizzazione straordinaria Fatta da un sacco di persone Che stanno lavorando con grande impegno Che hanno organizzato nel minimo dettaglio Per un evento benefico Per cui siamo onorati di essere stati invitati Per scrollarti Per scrollarti La noia di dosso Per uscire Un momento dal fosso Dove andrai Questa sera rispondi E' importante Che ci sia Insomma Il supporto concreto Perché poi si arriva a un risultato E senza i mezzi I risultati non si arriverà mai Quello che non riescono a fare le istituzioni Lo fa il volontariato Secondo me Questo in tutti i campi Questo l'ho imparato nella vita E credo molto Nel volontariato In questo spirito Perché la gente fa E riesce a fare cose Che dopo le istituzioni Inseguono Però è una lezione Che stiamo dando Secondo me Anche oggi